dei vertici Fiat. Allora le chiedo, Giuliano, perché bisogna essere soddisfatti di questo contratto? Che cosa avete portato a casa? Soddisfazione parte innanzitutto dal fatto che noi abbiamo avuto una trattativa complicata e difficile anche perché il contesto del settore in cui l'azienda opera è un contesto ormai noto a tutti particolarmente difficile e complicato. L'accordo noi l'abbiamo giudicato positivamente anche perché mentre altre cause automobilistiche stanno decidendo riduzioni di occupazione, chiusura di stabilimenti e riduzione salariale, mi sto riferendo a Opel piuttosto che Renault che PSA ma la stessa Ford, noi siamo riusciti a concludere con grosse difficoltà perché ovviamente queste condizioni di settore portavano l'azienda a essere più rigida nel negoziato, però siamo riusciti a concludere positivamente l'accordo. L'accordo è positivo perché innanzitutto dà un'erogazione salariale sui minimi tabellari, questa cosa inizialmente noi ce la siamo dovuta conquistare fino in fondo, che addirittura supera per il 2013 l'accordo di Federmeccanica per 5 euro mensili e anche sulla massa salariale compressiva porta a casa una quantità di denaro maggiore per i lavoratori fiat. L'accordo poi è stato, si è complicato nella discussione anche perché abbiamo dovuto discutere anche del premio di competitività, noi stavamo discutendo un premio che per cogliere l'aspetto della defiscalizzazione che per i lavoratori significava circa 400 euro che anziché andare in tasse se ne vanno nelle loro tasche. Abbiamo dovuto definire il premio di competitività e rispetto a questo elemento di complicazione la nostra preoccupazione era di dare maggior certezza all'erogazione del premio complessivamente. Ecco Uliano, intanto io devo assolutamente dare una notizia, lo vedete nel nostro flash, riguarda il conclave. Allora i cardinali hanno deciso, si inizia il 12 marzo, si inizia dunque la messa proeligendo e il pomeriggio l'ingresso alla Sistina. Ritorniamo a parlare di Fiat. Uliano, la durata di questo contratto è 2013-2015, l'accordo però prevede di rivedere l'aumento proprio per il 2014. Una prudenza da parte di Fiat alle prese con la crisi del settore, siete preoccupati che questo pur lieve ma significativo incremento salariale possa avvenire meno con l'aggravarsi della crisi oppure in qualche modo avete avuto delle rassicurazioni? No, rispetto all'incremento del 2013 quello è ossodato che è stato definito e ci sarà per sempre nel busto e paghe dei lavoratori.